Di Luigi Pirandello, Fuoco alla Paglia, Voce di Lorenzo Pieri Non avendo più nessuno a cui comandare, Simone Lampo aveva preso da un pezzo l'abitudine di comandare a se stesso, e si comandava a bacchetta, Simone qua, Simone là, si imponeva apposta per dispetto del suo stato le faccende più ingrate, fingeva talvolta di ribellarsi per costringersi ad obbedire, rappresentando a un tempo le due parti in commedia. Diceva per esempio rabbioso, non lo voglio fare, Simone ti bastono, t'ho detto raccogli quel concime, no? Pum, sappioppava un solennissimo schiaffo, e raccoglieva il concime. Quel giorno, dopo la visita al poderetto, l'unico che gli fosse restato di tutte le terre che un tempo possedeva, appena due ettari di terra, abbandonati lassù senza custodia ad alcun villano, si comandò di sellar la vecchia asinella, con la quale soleva pur fare, ritornando al paese, i più speciosi discorsi. L'asinella, drizzando ora questa, ora quella orecchia spelata, pareva gli prestasse ascolto, paziente, nonostante un certo fastidio che da qualche tempo il padrone le infliggeva, e che essa non avrebbe saputo precisare, qualcosa che nell'andare le sbatteva dietro, sotto la coda. Era un cestello di vimini senza manico, legato con due lacci al posolino della sella, e sospeso sotto la coda alla povera bestia, per raccogliervi e conservarvi belle calde, fumanti, le pallottole di fimo, che essa altrimenti avrebbe seminato lungo la strada. Tutti ridevano, vedendo quella vecchia asinella col cestino dietro, lì pronto al bisogno, e Simone Lampo ci scialava. Era ben noto alla gente del paese con quale e quanta liberalità fosse un tempo vissuto, e in che conto avesse tenuto il denaro. Ma ora, ecco, era andato a scuola dalle formiche, le quali, ba ba, ba ba, gli avevano insegnato questo espediente per non perdere neanche un po' di fimo buono a ingrassar la terra. Sì, signori. Su, Nina, su, lasciati mettere questa bella gala qua, che siamo più noi, Nina, tu niente e io nessuno, buoni soltanto da far ridere il paese. Ma non te ne curare, ci restano ancora a casa qualche centinaio d'uccellini. Ci, 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 non vorrebbero essere mangiati, ma io me li mangio, e tutto il paese ride. Viva l'allegria! Alludeva ad un'altra sua bella pensata che poteva veramente fare il paio col cestello appeso sotto la coda dell'asina. Mesi addietro aveva finto di credere che avrebbe potuto nuovamente arricchire con la cultura degli uccelli, e aveva fatto delle cinque stanze della sua casa in paese tutta una gabbia, per cui era detta la gabbia del matto, riducendosi a vivere in due stanzette del piano superiore, con la scarsa suppellettile scampata al naufragio delle sue sostanze, e con gli usci, gli scuri e le invetriate delle finestre e dei finestroni che aveva chiuso per dar aria agli uccelli con ingraticolati. Dalla mattina alla sera, dalle cinque stanze da basso, venivano su con gran delizia di tutto il vicinato, ringhi e strilli e cinfoli e squittii, chioccolio di merli, spincionardi fringuelli, un cinguettio, un passeraio fitto, continuo, assordante. Da parecchi giorni però, sfiduciato del buon esito di quel negozio, Simone Lampo mangiava uccellini a tutto pasto, e aveva distrutto lì nel poderetto l'apparato di reti e di canne con cui aveva preso a centinaia e centinaia quegli uccellini. Sellata l'asina, cavalcò e si mise in via per il paese. Nina non avrebbe affrettato il passo neanche se il padrone l'avesse tempestata d'innerbate. Pareva glielo facesse apposta per fargli assaporare meglio, con la lentezza del suo andare, i tristi pensieri che, a suo dire, gli nascevano anche per colpa di lei, di quel tentennio del capo, cioè, che essa gli cagionava con la sua andatura. Sì, signori. A forza di far così e così con la testa, guardando attorno dall'alto della sua groppa la desolazione dei campi, che si incupiva a mano a mano sempre più con lo spegnersi degli ultimi barlumi crepuscolari, non poteva fare a meno di mettersi a commiserare la sua rovina. Lo avevano rovinato le zolfare. Quante montagne sventrate, per il miraggio del tesoro nascosto. Aveva creduto di scoprire dentro ogni montagna una nuova California. California dappertutto. Buche profonde fino a duecento, a trecento metri, buche per la ventilazione, impianti di macchine a vapore, acquedotti per la eduzione delle acque e tante tante altre spese, per uno straterello di zolfo che non metteva conto alla fine di coltivare. E la triste esperienza fatta più volte, il giuramento di non cimentarsi mai più in altre imprese, non erano valsi a distoglierlo da nuovi tentativi finché non s'era ridotto, come era adesso, quasi all'astrico. E la moglie lo aveva abbandonato per andare a convivere con il suo fratello ricco, poiché l'unica figlia era andata a farsi monaca per disperata. Era solo adesso, senza neanche una servacela in casa, solo e divorato da un continuo orgasmo che gli faceva commettere tutte quelle follie. Lo sapeva, sì, era cosciente delle sue follie. Le commetteva apposta per far dispetto alla gente che prima, da ricco, lo aveva tanto ossequiato e ora gli voltava le spalle e rideva di lui. Tutti, tutti ridevano di lui e lo sfuggivano, nessuno che volesse dargli aiuto, che gli dicesse, compare, che fate? Venite qua, voi sapete lavorare, avete lavorato sempre, onestamente, non fate più pazzie, mettetevi con me a una buona impresa. Nessuno. E la smania, l'interno rodio in quell'abbandono, in quella solitudine agra e nuda, crescevano e lo esasperavano sempre più. L'incertezza di quella sua condizione era la sua maggiore tortura. Sì, perché non era più né ricco né povero. Ai ricchi non poteva più accostarsi e i poveri non lo volevano riconoscere per compagno, per via di quella casa in paese e di quel poderetto lassù. Ma che gli fruttava la casa? Niente, tasse gli fruttava. E quanto al poderetto, ecco qua, c'era per tutta ricchezza un po' di grano, che immietuto fra pochi giorni, gli avrebbe dato sì e no tanto da pagare il censo alla mensa vescovile, che gli restava dunque per mangiare. Quei poveri uccellini, là, e che pena anche questa, finché s'era trattato di prenderli per tentare un negozio da far ridere la gente, transeat, ma ora scender giù nel gabbione, acchiapparli, ucciderli e mangiarseli. Su, Nina, su, dormi stasera, su. Maledetta la casa e maledetto il podere che non lo lasciavano essere neanche povero bene, povero e pazzo, lì in mezzo a una strada, povero senza pensieri, come tanti ne conosceva e per cui, nell'esasperazione in cui si trovava, sentiva un'invidia angosciosa. Tutto a un tratto, Nina si impuntò con le orecchie tese. «Chi è là?» gridò Simone Lampo. Sul parapetto d'un ponticello lungo lo stradone, gli parvi di scorgere nel buio qualcuno sdraiato. «Chi è là?» colui che stava lì sdraiato alzò appena il capo ed emise come un grugnito. «Oh, tu, Nazaro, che fai lì? Aspetto le stelle. Te le mangi? No, le conto. E poi?» Infastidito da quelle domande, Nazaro si rizzò a sedere sul parapetto e gridò iroso tra il fitto barbone abbattuffolato. «Don Simò, andate e non mi seccate. Sapete bene che a quest'ora non negozio più e con voi non voglio discorrere». Così dicendo si sdraiò di nuovo a pancia all'aria sul parapetto in attesa delle stelle. Quando aveva guadagnato quattro soldi o strigliando due bestie o accudendo a qualche altra faccenda, purché spiccia, Nazaro diventava padrone del mondo. Due soldi di pane e due soldi di frutta. Non aveva bisogno d'altro e se qualcuno gli proponeva di guadagnarsi oltre a quei quattro soldi per qualche altra faccenda una o magari dieci lire, rifiutava, rispondendo sdegnosamente a quel suo modo «non negozio più» e si metteva a vagar per le campagne o lungo la spiaggia del mare o su per i monti. Si incontrava dappertutto e dove meno si sarebbe aspettato, scalzo, silenzioso, con le mani dietro la schiena e gli occhi chiari, invagati e ridenti. «Ve ne volete andare, insomma, sì o no?» gridò, levandosi di nuovo a sedere sul parapetto, più iroso, vedendo che quello si era fermato con l'asina a contemplarlo. «Non mi vuoi neanche tu», disse allora Simone Lampo scotendo il capo. «Eppure va là che potremmo far bene il paio, noi due». «Col demonio voi, il paio», borbottò Nazaro tornando a sdraiarsi. «Siete in peccato mortale, ve l'ho detto! Per quegli uccellini! L'anima, l'anima, il cuore! Non ve lo sentite rodere, il cuore! Sono tutte quelle creature di Dio che vi siete mangiate! Andate! Peccato mortale!» «Arri», disse Simone Lampo all'asinella. Fatti pochi passi, si arrestò di nuovo, si voltò indietro e chiamò. «Nazzaro!» Il vagabondo non gli rispose. «Nazzaro!» ripetè Simone Lampo. «Vuoi venire con me a liberare gli uccelli?» Nazaro si rizzò di scatto. «Dite davvero?» «Sì!» «Volete salvarvi l'anima?» «Non basta! Dovreste dar fuoco anche alla paglia!» «Che paglia?» «A tutta la paglia!» disse Nazaro accostandosi rapido e leggero come un'ombra. Posò una mano sul collo dell'asina, l'altra su una gamba di Simone Lampo e guardandolo negli occhi tornò a domandargli «Vi volete salvare l'anima davvero?» Simone Lampo sorrise e gli rispose «Sì!» «Proprio davvero? Giuratelo! Badate, io so quel che ci vorrebbe per voi! Studio la notte e so quel che ci vorrebbe, non per voi soltanto, ma anche per tutti i ladri, per tutti gli impostori che abitano laggiù nel nostro paese! Quello che Dio dovrebbe fare per la loro salvazione e che fa presto o tardi sempre! Non dubitate! Dunque, volete davvero liberare gli uccelli?» «Ma sì, te l'ho detto! E fuoco alla paglia! E fuoco alla paglia!» «Va bene, vi prendo in parola! Andate avanti e aspettatemi! Devo ancora contare fino a cento!» Simone Lampo riprese la via sorridendo e dicendo a Nazaro «Bada, t'aspetto!» Si intravedevano ormai laggiù lungo la spiaggia i lumi fiocchi del paesello. Da quella via sull'altipiano marnoso che dominava il paese si spalancava nella notte la vacuità misteriosa del mare, che faceva apparir più misero quel gruppetto di lumi laggiù. Simone Lampo trasse un profondo sospiro e aggrottò le ciglia. Salutava ogni volta così da lontano l'apparizione di quei lumi. C'erano due pazzi patentati per gli uomini, che stavano laggiù oppressi, ammucchiati, lui e Nazaro. Bene, ora si sarebbero messi insieme per accrescere l'allegria del paese. Libertà agli uccellini e fuoco alla paglia! Gli piaceva questa esclamazione di Nazaro e se la ripetè con crescente soddisfazione parecchie volte, prima di giungere al paese, fuoco alla paglia! Gli uccellini a quell'ora dormivano tutti nelle cinque stanze del piano di sotto. Quella sarebbe stata per loro l'ultima notte da passarli. Domani via, liberi, una gran volata, e si sarebbero sparpagliati per l'aria. Sarebbero ritornati ai campi, liberi e felici. Sì, era una vera crudeltà la sua. Nazaro aveva ragione. Peccato mortale. Meglio mangiar pane asciutto. E lì? Legò l'asina nella stalluccia e con la lucernetta a olio in mano andò su ad aspettar Nazaro, che doveva contare, come gli aveva detto, fino a cento stelle. Matto, chissà perché, ma era forse una divozione. Aspetta e aspetta, Simone Lampo cominciò ad aver sonno. Altro che cento stelle, dovevano essere passate più di tre ore. Mezzo firmamento avrebbe potuto contare. Via, via. Forse gliel'aveva detto per burla che sarebbe venuto. Inutile aspettarlo ancora. E si disponeva a buttarsi sul letto, così vestito, quando sentì bussare forte all'uscio di strada. Ed ecco Nazaro, ansante e tutto ilare e irrequieto. Sei venuto di corsa? Sì, fatto. Che hai fatto? Tutto. Ne parleremo domani, Don Simo. Sono stanco morto. Si buttò a sedere su una seggiola e cominciò a stropicciarsi le gambe con tutte e due le mani, mentre gli occhi d'animale forastico gli brillavano d'un riso strano, abbozzato appena sulle labbra di tra il folto barbone. Gli uccelli? Domandò. Giù, dormono. Va bene. Non avete sonno, voi? Sì, t'ho aspettato tanto. Prima non ho potuto. Coricatevi. Ho sonno anch'io e dormo qua, su questa seggiola. Sto bene e non vi incomodate. Ricordatevi che siete ancora in peccato mortale. Domani compiremo l'espiazione. Simone Lampo lo mirava dal letto, appoggiato su un gomito. Beato, quanto gli piaceva quel matto vagabondo. Gli era passato il sonno e voleva seguitare la conversazione. Perché conti le stelle, Nazaro? Di. Perché mi piace contarle. Dormite. Aspetta, dimmi. Sei contento tu? Di che? Domandò Nazaro, levando la testa che aveva già fondata tra le braccia appoggiate al tavolino. Di tutto, disse Simone Lampo, di vivere così. Contento. Tutti in pena siamo, Don Simo. Ma non veni incaricate. Passerà. Dormiamo. E riaffondò la testa tra le braccia. Simone Lampo sporse il capo per spegnere la candela, ma sul punto trattenne il fiato. Lo costarnava un po' l'idea di restare al buio con quel matto là. Di, Nazaro, vorresti rimanere sempre con me. Sempre non si dice. Finché volete, perché no? E mi vorrai bene? Perché no? Ma né voi padrone, né io servo. Insieme. Vi sto appresso da un pezzo, sapete? So che parlate con l'asina e con voi stesso. E ho detto, tra me, la sorba si immatura. Ma non mi volevo accostare a voi perché avevate gli uccelli prigionieri in casa. Ora che m'avete detto di voler salvare l'anima, starò con voi finché mi vorrete. Intanto v'ho preso in parola e il primo passo è fatto. Buonanotte. E il rosario, non te lo dici? Parli tanto di Dio. Me lo son detto. È in cielo il mio rosario. Un'ave Maria per ogni stella. Ah, le conti per questo. Per questo. Buonanotte. Simone Lampo, raffidato da queste parole, spense la candela e poco dopo tutti e due dormivano. All'alba i primi cinguettii degli uccelli imprigionati, svegliarono subito il vagabondo che dalla seggiola s'era buttato a dormire in terra. Simone Lampo, che a quei cinguettii era già a vezzo, ronfava ancora. Nazzaro andò a svegliarlo. Don Simo, gli uccelli ci chiamano. Ah, già, fece Simone Lampo destandosi di soprassalto e sgranando tanto d'occhi alla vista di Nazzaro. Non si ricordava più di nulla. Condusse il compagno nell'altra stanzetta e, sollevata la caditoia sull'assito, scesero entrambi la scala di legno della cateratta e pervennero nel piano di sotto, intanfato dello sterco di tutte quelle bestioline e di rinchiuso. Gli uccelli, spaventati, presero tutti insieme a strillare, levandosi con gran tumulto d'ali verso il tetto. «Quanti, quanti!» esclamò Nazzaro pietosamente con le lacrime agli occhi. «Povere creature di Dio!» «E ce n'erano di più!» esclamò Simone Lampo tentennando il capo. «Meritereste la forca, Don Simo!» gli gridò quello mostrandogli le pugna. «Non so se basterà l'espiazione che v'ho fatto fare. Su, andiamo! Bisognerà mandarli tutti in una stanza prima!» «Non ce n'è bisogno, guarda!» disse Simone Lampo, afferrando un fascio di cordicelle che, per un congegno complicatissimo, tenevano aderenti ai vani delle finestre e dei finestroni gli ingraticolati. Vi si appese e giù gli ingraticolati alla strappata precipitarono tutti insieme, con fracasso indiavolato. «Cacciamo via ora! Cacciamo via! Libertà! Libertà! Sciò! Sciò! Sciò!» Gli uccelli, da più mesi lì imprigionati, in quel subitaneo scompiglio, sgomenti, sospesi sul fremito delle ali, non seppero in prima spiccare il volo. Bisognò che alcuni, più animosi, s'avventassero via come frecce, con uno stridio di giubilo e di paura insieme. Seguirono gli altri, cacciati, a stormi, a stormi, in gran confusione, e si sparpagliarono dapprima, come per rimettersi un po' dallo stordimento, sugli scrimoli dei tetti, sulle torrette dei camini, sui davanzali delle finestre, sulle ringhiere dei balconi del vicinato, suscitando giù nella strada un gran clamore di meraviglia, a cui Nazaro, piangente dalla commozione, e Simone Lampo, rispondevano seguitando a gridare per le stanze ormai vuote «Sciò! Sciò! Libertà! Libertà!». S'affacciarono quindi anch'essi a godere dello spettacolo della via invasa da tutti quegli uccellini liberati alla nuova luce dell'alba. Ma già qualche finestra si schiudeva, qualche ragazzo, qualche donna tentavano ridendo di ghermire questo o quell'uccellino. E allora Nazaro, furibondo, protese le braccia e cominciò a sbraitare come uno sesso «Lasciate! Non va rischiate! Ah, mascalzone! Ah, ladra di Dio! Lasciateli andare!». Simone Lampo cercò di calmarlo. «Va là, sta tranquillo che non si lasceranno più prendere ormai!». Ritornarono al piano di sopra sollevati e contenti. Simone Lampo s'accostò ad un fornelletto per accendere il fuoco e fare il caffè, ma Nazaro lo trasse di furia per un braccio. «Che caffè, Don Simo! Il fuoco è già acceso! L'ho acceso io stanotte! Su, corriamo a vedere l'altra volata di là!». «L'altra volata!» gli domandò Simone Lampo, stordito. «Che volata!» «Una di qua e una di là!» disse Nazaro. «L'espiazione per tutti gli uccelli che vi siete mangiati! Fuoco alla paglia, non ve l'ho detto! Andiamo a sellare l'asina e vedrete!». Simone Lampo vide passarsi come una vampa davanti agli occhi, temette di intendere. Afferrò Nazaro per le braccia e scotendolo gli gridò «Che hai fatto? Ho bruciato il grano del vostro podere!» gli rispose tranquillamente Nazaro. Simone Lampo allibì da prima, poi trasfigurato dall'ira, si lanciò contro il matto. «Tu, il grano, assassino, dici davvero? Mai bruciato il grano?» Nazaro lo respinse con una bracciata furiosa. «Don Simò, a che gioco giochiamo? Di quanti parlari siete? Fuoco alla paglia, mi avete detto, e io ho dato fuoco alla paglia per l'anima vostra!» «Ma io ti mando ora in galera!» ruggì Simone Lampo. Nazaro ruppe in una gran risata e gli disse chiaro e tondo «Pazzo siete! L'anima, eh? Così ve la volete salvare, l'anima!» «Niente, Don Simò, non ne facciamo niente!» «Ma tu m'hai rovinato, assassino!» gridò con altro tono di voce Simone Lampo, quasi piangente ora. «Potevo figurarmi che tu intendessi dir questo, bruciarmi il grano! E come faccio ora? Come pago il censo alla mensa vescovile, il censo che grava sul podere?» Nazaro lo guardò con aria di compatimento sdegnoso. «Bambino, vendete la casa, che non vi serve a nulla, e liberate del censo il podere! È presto fatto!» «Sì!» sghignò Simone Lampo. «E intanto che mangio io là, senza uccelli e senza grano!» «A questo ci penso io!» gli rispose con placida serietà Nazaro. «Non devo star con voi! Abbiamo l'asina! Abbiamo la terra! Zapperemo e mangeremo! Coraggio, Don Simò!» Simone Lampo rimase stupito a mirare la fiducia serena di quel matto, che era rimasto innanzi a lui con una mano alzata a un gesto di non curanza sdegnosa e un bel riso d'arguta spensieratezza negli occhi chiari e tra il folto barbone abbattuffolato.